ciao a tutti e ciao a tutte come potete notare siamo già all'opera allora e questo sarà l'anteprima del video e intanto comunque vi do gli ingredienti della ricetta oggi andremo a realizzare la ghirlanda di natale con la pasta frolla allora gli ingredienti sono 300 grammi di farina 150 grammi di burro 120 grammi di zucchero un uovo io ho utilizzato la cannella ma ovviamente è facoltativo sale quanto basta e la informe le forniremo poi a 180 gradi per 20 minuti questi che vedete sono tutti gli ingredienti dove io poi andrò a realizzare queste ghirlande centrotavoli per natale e poi ora vi sposto l'angolazione con la pasta restante andremo a formare questi biscotti sempre questi anche questi di natale e niente ci vediamo dopo per la preparazione della pasta frolla e buon video grazie a tutti 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 grazie a tutti